Io sono l'imperatore Non me ne ho accorto Sono vicini a minacciare Brest E secondo me qui non sono tanto forti i francesi Non si sono rinforzati molto Più che altro l'Unione di Britannia sarà davvero difficile da sconfiggere Ma è un problema che incontreremo più avanti Comunque noi siamo sbarcati finalmente in Spagna E stiamo subito mettendo in sicurezza le posizioni E lo facciamo subito Tra l'altro sto mandando altra milizia In modo che possiamo anche fare un attacco da qui Vorrei prendere tutta questa regione Ecco per avere l'accesso completo alla Spagna Alla Francia praticamente Dato che qui c'è la montagna quindi non potremmo comunque passare Andiamo, conquistiamo Qui cominciamo ad entrare in territorio francese Che non se l'aspettavano Che azione ragazzi Questo mi ricorda tanto il piano mai dire Oh cosa è successo? Uh Uh Riesco a prendermela? No cavoli a fantocizzarla? No neanche Dai voglio prendermi solo questo Me ne servirebbe poco Ok Vediamo la Catalogna No Sa che non prenderemo un cazzo da sta guerra Dai dai No Vediamo No ma perché No ma perché No Non riusciamo a prendere Ma c'è il 67 Dai voglio la Catalogna Eccola Che stronzi Non abbiamo fatto niente sta guerra Ci ha andato Non abbiamo fatto niente sta guerra Che schifo ragazzi Siamo andato i spagnoli che se ne devono andare Noi che ci siamo presi la Catalogna No ragazzi Mai dire se è davvero un pezzo di merda Eh sì davvero ragazzi Era l'unico modo L'unico modo per prenderci la Spagna Attacchiamo Attacchiamo con tutto Che azione Rimarrà negli annali Una delle azioni più belle di sempre Proprio all'ultimo siamo riusciti a prenderci Quel territorio Intanto lasciamo la Spagna crepare No in questa guerra civile A noi Non importa niente A noi serviva solamente avere Questo Punto Per attaccare Sta arrivando la milizia Che è già arrivata Mi spiace Adesso loro cercheranno di Rinforzare Il territorio Ma Noi attacchiamo Il momento è di attaccare Continuiamo ad attaccare Non dobbiamo Arrenderci adesso Abbiamo bisogno di mandare rinforzi Tra l'altro i francesi sono sbarcati E bene tra l'altro Cioè bene sono sbarcati Dobbiamo approfittarne Adesso lasciamoli avanzare E adesso attaccati da più direzioni Peccato che hanno respinto Lo sbarco qui a Brest Perché era una buona Una buona iniziativa Attacchiamo da questo lato Milizia entra in combattimento Molto bene Un esercito un po' Raffazzonato È vero Però Però ci sta Attacchiamo qui Teniamoli fermi Mentre quelle prendono possesso Eh no Non ce l'abbiamo fatta No ragazzi Non è che ci siamo Espansi così tanto Però prendere la Catalogna È stata un'azione Molto interessante Qui conviene Attaccare per aiutare i nostri amici francesi O del Commonwealth Mettiamola così Perché vedo Cioè se perdono questo Questo porto Poi È un disastro per loro Eh Bene attacchiamo Oh no Ok ok va benissimo Attacchiamo Attacchiamo qui Contrattacchiamo anche da questo territorio Ragazzi Facciamo partire l'azione Allora Cambiamo subito Allora Qui ci mettiamo Adesso Graziani Che gli diamo anche Vediamo Logistic Wizard Organizzazione Diviso Recovery Rate Mi piace questo E qui invece ci mettiamo Bastico Perché facciamo allenare un po' Un po' anche lui E rimaniamo In posizione difensiva Quindi qui blocchiamo l'attacco Qui invece lo facciamo partire Perché secondo me È il momento giusto Per attaccare Non fermatevi È proprio il momento giusto Qui ci mandano Land lease tutti Ok supportiamo i francesi Qui Ragazzi stiamo Facendo proprio Un'azione bellissima Perché l'abbiamo impegnati Su più Su più fronti Quindi la milizia Può tornare qui Quindi presi anche da sud Servirebbe uno sbarco Di nuovo qui a Brest Vediamo Vediamo Che dire Cosa possiamo fare Qui Arrivano rifornimenti Non li vedo Ok un po' di fanteria Lì resistiamo Dovrebbero aver bisogno Di rinforzi Se no rischiano Di ributtarci in mare La Spagna Che si è persa La Catalogna Così Cioè il nostro intervento Per far capitolare Comunisti L'hanno pagato proprio caro Ci abbiamo preteso Tutta la Catalogna Sono sbarcati Pure a Bordeaux Quindi tutti insieme Appassionatamente Contro la Francia Ma direi che Qui abbiamo messo a posto Tutto Possiamo mettere Questo che cos'era Per il light tank Va bene Metterei qualcosa Per quanto Scotty Fanteria magari Perché dobbiamo fare Quando è che c'è la nuova Fanteria da Da ricercare Ah per il 42 No Un po' troppo presto Quindi lì possiamo aspettare Magari quella industriale Ecco La Staldi La Pirelli Cosa che fa Ah costruisce più velocemente Le sintetiche Facciamo questo ragazzi Perché le sintetiche Le dobbiamo ricercare da zero Guardate come si espandono Bellissimo ragazzi Bellissimo Mi sta piacendo un sacco Il nuovo risvolto E l'azione della Catalogna È stata proprio una genialata Del vostro mai dire Quindi Perché ci siamo presi Un territorio comunque Ricco Con un Con un porto Così comunque Aspettiamo che quella divisione Si sposti Allora qui Pausa 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 Che hanno attaccato ancora Qui contrattacchiamo Aspettiamo Aspettiamo Devono spostare quelle divisioni Stanno andando a Bordeaux No l'hanno già respinto Cavoli Tacchiamo di qua Andiamo di qua come sta andando Sta andando bene Perché i francesi adesso Stanno per prendere pure Questo porto E va bene Così avranno più rifornimenti Ah sono sbarcati i tedeschi Questi sono tedeschi Bellissimo Bellissimo Mamma mia Che soddisfazione Questa campagna Che soddisfazione Questa campagna Però Però Allora Devi cambiare musica Come sempre Perché Mettiamo Questo Va bene Allora Qui stiamo attaccando Torino Con tutto quello che avevamo a disposizione Quindi Attacchiamo Andiamo a riprenderci pure Torino E magari Cancelliamo Il battle plan Che non mi piace tanto Andiamo per così Peccato non riuscire a recuperare Tutta la provincia Qui del Rodano Ma Più aiuti abbiamo Meglio è Piuttosto di combattere da soli Andiamo pure questo E mandiamo questo In combattimento A Torino Vediamo se abbiamo qualche Close health support Finalmente Sette Vabbè Un po' triste Però Meglio che niente Ok Andiamo a close health support Attacchiamo Poi la marina Gran nevi Non possiamo farlo Rinforziamo la costa Perfetto Qui abbiamo sfondato Però Mandiamoci subito Questa divisione A coprire E qui Dobbiamo stare attenti A ogni divisione Peccato Lo sbarco che è andato male Qui hanno Sono dovuti ripiegare Anche in questo territorio Maledizione Se solo facessero Capitolare il belgio Sai quante divisioni Perderebbero L'Olanda è sempre Dalla nostra parte Sì Fortunatamente Sì Allora Torino La battaglia di Torino Pronto signore Entriamo tutte le divisioni Che abbiamo Adesso con i nostri Sette Close health support Che Che attaccano Guardate Che schifo Che supporto è Oh abbiamo riconquistato Pure Torino Abbiamo lanciato Abbiamo lanciato Un attacco Decisivo Qui non abbiamo Le riserve Per attaccare Ragazzi Dobbiamo costruire Altre divisioni Stiamo già facendo Ah Guardate quanti Quante fabbriche Abbiamo adesso Produciamo Più saetta E più close air support Più support equipment Così Così E poi le prossime La mettiamo Sull'artiglieria Bene Sblocchiamo anche Queste divisioni Non hanno l'equipaggiamento Ma tanto siamo in guerra E combatteranno Che vi devo dire Tanto qui vediamo Se abbiamo tutto Support equipment Sì dai Lasciamole queste a produrre Però solo queste Una sola Perfetto Vediamo Cosa stiamo producendo Catalogna Ecco Quella in Catalogna L'infrastruttura ci serve Come anche questa Dove stiamo combattendo Va benissimo Forse tutte quelle fabbriche Le abbiamo prese Dalla Spagna comunista Bene Bene Poi attaccheremo Anche la Libia E' ancora in guerra Contro gli egiziani Sì E attaccheremo Anche la Libia Poi Però prima Concentriamoci Sui francesi Stanno arrivando I rinforzi Cinque divisioni Eh Sono tante La presa di Torino Ha dato Stato un buon colpo Per il morale Mandiamoci Gli Alpine Ad attaccare E la fanteria Ok Attacchiamo con tutto Qui sulle Alpi E cerchiamo Di prendere possesso Di quella regione No non ce la facciamo Allora attacchiamo da qui Qui sfondiamo E carichiamo pure La milizia Gruppo d'azione Patriottica Va bene Qui come sta andando Adesso che sono Arrivati Arrivate le nuove Divisioni Sfondiamo Sfondiamo E' iniziato L'attacco Del vostro Mai dire Non ci Fermano Da nord Nulla Ok Qui togliamo Questo Tra poco Andiamo anche Un po' A quattro Ragazzi Perché Sembra che La situazione Si sia un po' Tranquillizzata Arriva anche La fanteria Qui in Spagna Ormai abbiamo Preso possesso Del territorio E non ci Fermano più Qui direi Di continuare Ad avanzare Finché ci lasciano Avanzare Noi avanziamo Attacchiamo Di qua Carichiamo Eh perché Voglio aiutare I francesi Che adesso Le stanno Un po' Prendendo Allora Li attacchiamo Così sfondiamo Arriviamo Fino al fiume Prendiamo Montpellier Eh no 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 Ecco ragazzi Ho fatto la cagata Dovevo lasciarne una Vabbè Qui mandiamo Mandano fucili Qui ce ne hanno Mandati tanti In realtà Ok Le richiamiamo Eh no niente Andiamo a prendere Montpellier Allora No quello Non ce la facciamo Però teniamo Ferme quelle divisioni Perdiamo un po' D'equipaggiamento Ma noi va bene Ci stiamo estendendo Un po' Troppo Eh Attacchiamo Voglio saccare Tutte le divisioni Del comando alpino E poi insieme Alla Francia Repubblica Però ragazzi Sapete cosa Se la Francia Repubblicana Si prende Questi territori Poi io Ho la frontiera Sicura Me ne posso Anche sbattere Dell'esito Della guerra Posso anche Spostare le mie Truppe Vabbè Qui abbiamo Delle divisioni A proteggere I nostri Possedimenti In Catalogna In effetti Vediamo dove Possiamo attaccare Qui hanno un punto Di debolezza Quindi Attacchiamo Pronto Possiamo anche Mandarla a milizia In realtà Perfetto Poi Qui stiamo avanzando Qui le sacchiamo Tutte ragazzi Qui Sacchiamo Tutte le divisioni Francesi Andiamo un po' A Vediamo se possiamo Anche Siamo sotto Solo di 6 di petrolio In realtà Neanche tantissimo Dobbiamo continuare A mettere a posto Questa infrastruttura Mi attaccano Ma ci dovremmo Difendere A Montpellier Sì Sfondiamo Stanno attaccando Con 4 divisioni Maledizione Dai Francesi di merda Aiutatemi Sto attacco Andiamoci pure Questa divisione Ad attaccare Perché qui Dobbiamo avanzare Ok ci stanno aiutando Finalmente Quindi la milizia Dovrebbe cadere Attenzione Qui eh Porca miseria Attacchiamo Supportiamo un po' I nostri alleati Rischioso Quello che sto facendo Però Qui bisogna rinforzare Questo teatro No no Meglio tenerlo qui Teniamo Teniamo qui la posizione Abbiamo sfondato Abbiamo sfondato Prendiamo anche Tolosa Bellissimo Allora Qui se abbiamo sfondato Possiamo attaccare Anche di qua Per chiudere Queste divisioni Qui non avanziamo Attacchiamo da questo lato Per tenere ferme Le divisioni Attacchiamo da questo lato Per tenere Per avanzare Adesso che ci lasciano avanzare Attacchiamo Attacchiamo Ragazzi Finalmente Abbiamo dato uno scossone Al fronte Con questa invasione In Catalogna Il vostro stratega preferito Mai dire Bene Qui stiamo avanzando Attacchiamo da questo Dai dai Che le sacchiamo Dai che le sacchiamo Mandateci anche la milizia Raddoppiamo Raddoppiamo Dai 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 Spostatevi Maledetti francesi Di merda Andiamoci la milizia Ok Attacchiamo anche di qua Qui avanziamo No niente Sono scappati All'accerchiamento Del vostro Maidira Non abbiamo Truppe troppo mobili Quindi è normale Che questo accada È proprio normale Va bene Qui siamo Stiamo avanzando Però Interromperai l'attacco Perché È Troppo difficile Lì Li stanno combattendo Va bene Aspettiamo ancora un attimo E poi daremo uno scossone Ancora al fronte Ragazzi Sto provando A contraattaccare Adesso In questa zona Perché La loro avanzata Non mi è piaciuta per niente Però rischiamo di Venire saccati Quindi attacchiamo Mentre queste Le spostiamo Qui a Tolosa Allora Rischiamo di venire saccati Ancora Quindi Continuiamo a tenere Impegnate le loro truppe Qui scendiamo Eh l'abbiamo saccati In realtà Quasi Dai 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 Ragazzi Forse ho fatto un'azione Quasi senza pensarci Continuiamo a spostare Le divisioni Questa la spostiamo Che a Tolosa Che è meglio difendere Quella zona Saccati Abbiamo saccato Le truppe francesi Che roba Dai 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 Perché sono state impegnate Da qualche attacco No Non vedo niente Qualche sbarco Sì qui stanno sbarcando Però Dai ragazzi Qui poi abbiamo Il fronte Completamente libero Direi che è il momento Di lanciare un attacco Di quelli proprio decisivi Che Non sapete neanche Quanto sono decisivi Questi attacchi Che Adesso con l'attrito Verranno allogorati E moriranno Distenti Qui continuiamo ad avanzare Ma non serve a niente Perché noi stiamo sfondando Prendiamo tutto E raddoppiamo Ogni linea Abbiamo bisogno Di altri rinforzi In questo settore Vediamo se abbiamo Altra roba da mandare Vediamo Ricerche Abbiamo sempre pochissimo Manpower Gli M13 Carri medi Forse è il momento Di farli Poi li mettiamo Anche in produzione Battlecruiser L'abbiamo fatto Battleship italiane Mi piacciono I sottomarini italiani pure Però Meglio fare Le italian battleship E poi facciamo Un po' di Di focus Di tecnologie Navali Quindi qui stiamo Attaccando Però Ci stiamo Logorando più noi Che loro per attrito Ma come Ah no Adesso Stanno morendo Le loro divisioni Teniamo le ferme Abbiamo bisogno Di altre Altre truppe Niente Mi spiace Ma devo togliere Un po' di milizia Al mitico Visconti Prasca Per tenere il fronte Perché questa è L'azione più importante Della guerra Quasi Sì 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 Attacco decisivo Attacco decisivo Attacco decisivo Tenete lontani I francesi Però Sta arrivando Sta arrivando la milizia Spero di sì Ok I francesi Sono troppo Logorati Ragazzi Troppo dura La guerra Contro tutti Questa Contro tutti Praticamente Dai 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 Ce la dobbiamo fare Dai che l'abbiamo Saccata Queste divisioni Spostiamole Qui a difesa Spostiamole Qui a difesa Ok teniamo Ok teniamo Va bene Teniamo Qui li abbiamo Saccati Quindi continuiamo Ad attaccare I francesi Non li salveranno Queste divisioni Dalla sacca È finita Per loro È finita È finita Però rilento No Qui la riaprono Continuate Ok qui abbiamo Coperto Appena riprende un po' D'organizzazione Anche qui Mandiamolo qua Mandiamolo qua Dai perché Non riusciamo Il fronte Sta crollando Un'altra volta Attacchiamo E teniamolo Fermo Finché quelle truppe Non si ripristinano Dai Abbiamo fatto La sacca Queste truppe francesi Rischiano tutte Di liberarsi Qui non ho fatto Il battle plan Ecco Vedi che Facevo qualche errore Perché l'ho cancellato Non dovevo cancellare Il battle plan Dovevo lasciarlo Ma Eh hanno riaperto La sacca La rottura Di coglioni Questi francesi Di merda Come fai a combattere Contro 260 Divisioni francesi Da solo Porca Eh però almeno Siamo riusciti A tenerli impegnati E ad allontanarli Andiamo a prendere Tutto il sud Della Francia Dai Ricongiungiamoci Con i nostri alleati No Voi non scappate Da sta sacca Che voglio ricreare Questa milizia Attacca qui Teneteli fermi Aspetta ma qui È un territorio Li possiamo chiudere Un'altra volta Cioè si stanno ritirando Perché i francesi Stanno arrivando Va benissimo Milizia Prosegui oltre Vai su a nord Dai che li chiudiamo Un'altra volta Dai che li chiudiamo Un'altra volta Dai che li chiudiamo Un'altra volta Ragazzi Oh Giù 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 No adesso Adesso li massacriamo Perché Spostiamoci di qua Questa torna di qua Mentre questa milizia Va bene Avanza da questo lato E chiudiamoli 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 Attacchiamo di qua E chiudiamo anche Quelle divisioni Ragazzi Doviamo giocare così Perché se non Cominciamo a ridurre Un po' l'esercito francese È un casino Sentito il rumore Di uno sbarco Però non c'è niente Va bene Lì stiamo sfondando Attacchiamo con tutto Arriviamo fino a Grenoble Bene Stiamo alleggerendo La pressione Sui nostri alleati Allora Questo fronte È Coperto Ok la sacca Sta per essere Estinta Praticamente Abbiamo 10 divisioni Abbiamo saccato Più di 15 divisioni Francesi ragazzi Infatti vedete come La situazione è molto più Tranquilla Oh Noi italiani Queste cose le sappiamo Fare bene Se siamo comandati Bene Se siamo comandati Da mai dire Ok Allora questo Possiamo fare Possiamo fare Sottomarini italiani Eh ragazzi Ragazzi Che azione Tutta fatta da me Hanno riaperto la sacca Ma l'abbiamo richiusa Subito dopo Fortunatamente Sette divisioni Questo per tutti quelli Che chiedevano un gameplay L'avete avuto Perché qui Come ve l'ho detto Io se mi impegno Mi metto lì Ci siamo ragazzi Chiudiamo sta sacca E poi possiamo Anche concludere L'episodio Andata ragazzi Bene Ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Da mai dire Al prossimo video Ciao Ciao a tutti